Dov'è il mio DJ caro? DJ! Ah! No! Non è tanto carino quando sono tutti su di me? Oh! Papi! Papi ero nel bagno! Lui stava salendo le scale e sento BAM! Sì! 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 Sì che lo puoi muoverle lui! Ah! È lui! Non ti rammi! Io sto tenendo le balli! Degà se tu ci riesci! A chi non lo puoi più? Poi, se io lasci scappo! papi glielo lascio apri la bocca piano non mi guardo nei pantaloni si chi vestono no aia ehi ehi jay non uccidere jay ehi jay sto ehi papi ehi jay papi ehi jay ha marso il collo di jay no quindi si no 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 in realtà il dj ha marso il collo di jay a me una volta me l'ha preso ehi a un'idea piace il campanese oh a si a se li vettano no si scava ehi no vai da dove ah prendete la bocca perché sono buon punto anch'io dov'è eccolo lo distrugge è arrabbiato come è meglio oh qui non è tanto male no la vuole pure lui oh papi questo è forte questo è dj questo è dj no questo chi è è l'altro è dj no è quello dj come hai fatto a capire che doveva far cacca vai via una volta in due l'hanno preso ehi no 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 i picchiati ecco tu sei che qua ehi stai andando alla linea con la linea stai andando allontan chi è quello dj si dj lotta dai dj lotta sei tu il tuo fai dai ecco Quasi Si Andre dai andiamo a scuola Mi chiamo Andre 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 Io non vedo che vanno Va Non vuole Sedi che ti siete qua Non vuole Ciccioli Ma li lasci qua ancora Dove andate via? Perché dove dovete andare? Ci indica che lei sta vedendo lì, perché è una bella? Ricordo, dì dire? Perfetto! Azzà, 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 azzà! ...le cambiare il cane che è sulle. ...dia, azzà, azzà... non scavate ma perché io non sarei sempre cambiato no No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti